Dottoressa, sono incinta, che faccio? La prima visita quando? Dottoressa, ma durante la gravidanza posso fare sesso? Ma dopo il parto in che condizioni sarò là sotto? Dottoressa, ma durante il parto avrò, diciamo, movimenti intestinali? Dottoressa ha perso il tappo? Ma cos'è sta toxoplasmosi? Ma è normale fare così tanta pipì in gravidanza? Ma se facciamo l'amore non è che il bambino lo schiacciamo? Dottoressa, non è che possiamo fare un eco? Lo so che l'abbiamo fatta due settimane fa, ma ho giusto un controllino, così sono più tranquilla. Dottoressa, ma è vero che dopo il parto non avrò più il controllo della vescica? Dottoressa, ho messo su 20 chili, ho preso troppo peso? Ma è vero che non posso mangiare prosciutto crudo? Dottoressa, ho le contrazioni. No, non sono regolari. Ho problemi di indigestione e gas intestinali. È normale? Ho le contrazioni. Sono vero, lo giuro. Dottoressa, ho vomitato tre volte oggi. Dottoressa, mi si sorrute le acque e sto negando. Voglio il cenario.